Eccoci qua, pronti! Il clima è abbastanza freddino, ventoso, stiamo nella piazza di Scopello. Il terzo ristoro è a 21 chilometri e mezzo circa, dove c'è anche il cancello, il quarto ristoro lo trovate a 29 chilometri. Buona gara, dai, bravi, saluta! Dai, non questo, sennò voli via! Dai, vieni qua, vieni qua che lo metto dentro! Quanto tempo dichiarato? 6 ore e 30, giusto il cancello! Tempo dichiarato? Quanto ci metti? 6 ore! 6 ore e 29! Eh, quanto ci metti? Eh, quanto ci metti a farla? Meno 5 ore e mezza! Quanto? Quattro ore e cinque! Tu? Non ho idea, però sulle quattro ore e cinque! Quattro e cinque! Quattro e cinque! Ha detto uno e mezzo! Due ore e che uno e mezzo! Sta largo ha detto! Due ore! Spero quattro ore e mezzo! E io lo caso un'ioffetta! Mi voglio una cosa! Si, marita rosa! Carina e si finezza! Si, tirata ci un'ioffetta! Marita e oggi! La rota la io fatta! La casa la io magari! Schietta non voglio stare lì! Rannuzza il sogno già! La colpe di me magari! Mi tiene ritirata! Ma ora la giornata! Eh, non vai forte! Se la prima! Eh, no! Eh, donne non le viste! Guarda che vinto che sei! Seconda! Brava! Santissima! Seconda! Vai! Vai! Dai! L'ultimo strappo! Poi! Tinta! Magli, la gelda è sotto qua eh! Eh, la vinto! È vero! Allora, oh! Sta attenta! Sì! Aiutarla! Sì! Sì! Dai, dai che ormai è tutta di... Dovete dire! Stratta! Vai! Hai vinto la paura ormai! Vediamo la scena! Non dico sempre di più che queste! Io preferisco correre! Questa è su scalare! Eh, non so! Questa è un rider! No! C'è un vento! Ora si scende! Ora si va all'arrivo! Meri! Dai! L'ultima salita! È tosta questa eh! Parca la miseria! Oh! Finalmente è arrivata! Come state? Bella! Nocrate! Bravo! Dai, va come cazzo! Svalbossa, alzate Monica De Santis! Rodari! Seconda posizione eh! C'è un atleta della runner Svalbossa alzate Rita Grisotto! Regale qua! Le prime cinque del trail della Figare! Grande Bellini! Sei un grande! Bravissimo! Montanello! E c'è il giappone che si è venuto nella figlia! Ah grande! Ma che c'è la medaglia! Prendi la medaglia qua! Oh! Ma grandissimo! Quinto! 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 Ma che parte a tutti che guardano lei che fa l'intervista! A mezzo sulle morì! Grandissimo! Ma che parte a tutti che guardano lei che fa l'intervista che è arrivato! Visto che è arrivato! Va! Tira il respesso al mio! E' la cara che moriva! Grazie! Questa di nasia di buono! Vincenzo! 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 Grandissimo! Ma la tripletta vincente! Allora la tripletta vincente! Che comprendevano come primo classificato Negretto, secondo classificato Garantonello, terzo classificato Bellini! 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 Il meraviglioso piatto della lotteria con il boss è la Giovanna! Brava Giovanna! Brava! Bravi! Brava Giovanna! Brava!